Allora, intanto, un saluto e un ringrazio Il ringraziamento è per questo invito particolarmente apprezzato, un invito a partecipare a questo incontro iniziale, questo kick off meeting che mi sembra particolarmente interessante nei suoi contenuti, per cui il mio ringraziamento al padrone di casa Giovanni Laino e al Principal Investigator Vinci perché davvero è un'occasione per un confronto bello e interessante Su temi che mi sono cari Riprendo da Michelangelo Russo un passaggio Lo spazio conta, la citazione a Bernardo Secchi al fatto che il tema delle diseguaglianze abbia un riferimento spaziale Non è affatto scontato, non è affatto banale, spero proprio che questo mio deliberato intento di aderire alla questione spaziale sia utile e complementare rispetto alla interessantissima presentazione che prima Franzini ha fatto Voglio proprio stare sullo spazio, confrontarmi con questo tema, centrando soprattutto il tema delle diseguaglianze e non quello delle povertà Il problema è di variazione dei valori e non tanto stabilire un riferimento nella mia argomentazione al tema della povertà che invece non è centrale nella mia riflessione Le date contano, nella sua introduzione Ignazio Vinci ha più volte evocato una serie di date che non sono affatto banali nella storia recente del nostro paese E che io credo devono essere oggetto di una chiara riflessione In particolare le date che voglio soprattutto centrare sono quelle del 2008-2012 Sono due crisi fondamentali del nostro paese da cui il nostro paese fa fatica a risollevarsi Lo vedremo dopo ma si tratta di momenti importanti in cui il paese prende una traiettoria che non è più affine a quella di altri paesi per esempio come la Spagna, come la Francia Che invece condividono un assetto giuridico, una tradizione culturale che sono assolutamente prossime Il terzo tema è quello che Franzini prima ha evocato La casa conta nelle traiettorie perché è il patrimonio, il salvadanaio degli italiani Se esiste un asset su cui le famiglie italiane hanno puntato nel corso dei decenni che dal dopoguerra in poi hanno caratterizzato il processo di accumulazione della ricchezza del nostro paese La casa diventa una vera e propria cassaforte su cui gli italiani hanno puntato Anche nella errata supposizione che i valori immobiliari sono destinati a crescere sempre Per decenni gli italiani hanno immaginato che avere una casa non solo fosse uno strumento per proteggersi dall'inflazione I ventenni non sanno neanche che cos'è l'inflazione, l'hanno imparato un paio d'anni fa L'ho imparata adesso, ho detto che cos'è questa cosa La mia generazione si ricorda i bot al 12% che oggi è una misura, si sarebbe detto, oggi forse sarebbe censurata l'espressione sudamericana Lo dico perché adesso sarebbe una espressione ai limiti della tollerabilità Ecco, credo che su questo insieme di considerazioni io posso senz'altro far partire la mia presentazione E qui riprendo un articolo che Bernardo Secchi ha scritto in anni che sono lontanissimi Ma è il quarantesimo anniversario di un articolo che ho trovato sempre molto bello e molto importante In cui Bernardo Secchi dice L'urbanistica italiana fino ad oggi si è occupata di crescita, si è occupata di rendite, si è occupata di temi legati alla concentrazione Dobbiamo costruire una nuova agenda, dobbiamo costruire una diversa riflessione E all'interno di questa riflessione entrano in gioco processi che hanno a che fare con la relativa deindustrializzazione del nostro paese Con processi di dispersione, con processi che hanno anche a che fare con l'abbandono delle località massimamente centrali E la costruzione di quei paesaggi che sono poi i territori della dispersione, la città diffusa e via dicendo Ecco, io credo che la lettura che fa Bernardo Secchi per costruire una nuova agenda spaziale Meriti oggi di essere potentemente ripresa Perché forse oggi diamo per scontato una serie di nuove condizioni di carattere demografico ed economico Che invece sono assolutamente centrali e su cui troppo spesso sorvoliamo Le ascoltiamo magari anche al telegiornale perché sono diventate ormai di battito corrente Le affrontiamo nei nostri convegni di solito con rapide e fugaci battute Ecco, meritano, poiché hanno un rilievo nello spazio essenziale di essere precisamente affrontate Allora, qui parto da alcune considerazioni anche di carattere proprio biografico Sono, così come Giovanni Laino ricordava di essere espressione pura della mobilità sociale Io sono espressione invece di una mobilità territoriale tipica di un'Italia che dalla provincia si muove e va in città Credo che sia un percorso molto comune all'interno di questa stanza Ma sono anche espressioni di una provincia italiana che ha sempre immaginato questo come il paese delle cento città Come un paese all'interno del quale nascere in provincia non è una condanna È semplicemente una occasione di affermazione di sé in un mondo che è altro rispetto a quello della metropoli Questa idea, questo passaggio in realtà subisce nel corso degli ultimi anni un percorso di brutale revisione La provincia torna ad essere provincia, le metropoli tornano ad essere metropoli E su questo qualche dato, sempre di carattere biografico, lo voglio sottolineare Ricordo come alla metà degli anni 10 mi capitò di incrociare questi numeri Questi numeri furono per me un avvertimento, qualcosa sta cambiando Faccio notare le date di riferimento e faccio notare alcuni numeri Le date sono metà degli anni 0, metà degli anni 10 In mezzo c'è il 2008, in mezzo c'è il 2012 Gli italiani subiscono un vero e proprio trauma E scoprono che una espressione di apparente crescita Qualche numero positivo nei dati della contabilità nazionale Quelli sono svaniti e invece siamo entrati in una fase di ben altro tenore In cui la crescita 0 diventa il modo in cui dobbiamo rapportarci alla società e all'economia in cui viviamo Guardate il dato rispetto alla flessione dei ragazzi e delle ragazze che si immatricolano in quel decennio Meno un quarto Certo c'è un po' di diffidenza nei confronti degli studi superiori Ma si inizia a vedere in modo netto la diminuzione della corte dei giovani Io sono quasi un baby boomer, sono quasi un raietto Perché oggi boomer non è esattamente un complimento Ma conosco la mia corte La mia corte non ha niente a che fare con le corti che poi oggi entrano in università Quelli sono meno che dimezzate rispetto alla mia generazione Quindi vediamo questo numero e poi vediamo questo processo per cui intere regioni del paese sono oggetto di un abbandono I giovani ventenni scelgono i piedi per dire che qualcosa bisogna comunque fare E lasciano molte regioni del paese per spostarsi Vedremo poi dove Ora poi ho ripreso questi dati perché ho detto Andiamo a provare una spazializzazione dei movimenti che in quegli anni hanno luogo Questa è una spazializzazione che proprio fotografa il movimento della popolazione italiana Negli anni in cui gli italiani decidono che qualcosa bisognerà pur fare a fronte del secondo shock Particolarmente violento del 2012 Si vede benissimo, se guardate l'azzurro Come abbiamo? Luoghi di elezione che non sono semplicemente il nord contro il sud Lo voglio sottolineare Ma sono l'autostrada A4, quella che va da Torino a Trieste Nel suo tratto fino a Venezia L'autostrada A22, il Brennero, la provincia autonoma di Trento e di Bolzano La via Emilia, la vedete benissimo, proprio una via storica che è Le regioni metropolitane di Firenze, di Roma e parte di Napoli Un pezzo di Puglia Ecco, sono gli unici ambiti che voi vedete azzurri Tutto il resto, in particolare intere porzioni dell'Italia del centro-sud Sono tutte rosse, quindi subiscono un salasso demografico in pochi anni Particolarmente robusto Ora, questi dati non sono di poco conto Perché mostrano come a fronte di un declino demografico Che ci è stato raccontato ma che non entra nel vissuto degli italiani Se non da pochi anni Noi iniziamo ad avere anche migrazioni interne che effettivamente iniziano ad essere dirompenti Qualcosa che non avevamo mai visto Segnalo come dai primi anni dieci che la popolazione in Italia diminuisce Prima ce lo dicevano i demografi Ma tanto non ci credevamo Tanto pensavamo che qualcosa sarebbe successo Lo stellone italico avrebbe comunque aiutato il nostro paese a ritrovare una via di crescita Questo non è avvenuto Noi abbiamo iniziato a perdere prima una piccola città di provincia 80-90 mila abitanti e residenti all'anno Oggi perdiamo una città di medie e grandi dimensioni all'anno Perdiamo 350-300 mila abitanti ogni anno Quindi siamo di fronte a un cambiamento davvero strutturale Se vediamo quali sono le prospettive Ebbè abbiamo alcuni dati che io credo siano particolarmente severi Nei confronti del modo in cui pensiamo le città Questo è un rapporto Istat che ho fotografato Senza prendere numeri esoterici Sono i bollettini dell'Istat che girano in continuazione Ma che evidentemente noi non vogliamo o non sappiamo leggere nella loro potenza Quattro città su cinque perderanno popolazione Non la terranno, non saranno stabili Diminuiranno nove comuni su dieci Di natura rurale perderanno popolazione È sistemico il cambiamento Faccio presente che Bernardo Secchi ricorda In questo bell'articolo In questo articolo che ho ben conservato Noi abbiamo sempre in mente come la pianificazione Si è legata a un processo di concentrazione e di aumento della popolazione La nostra pianificazione del tutto estranea Ha un'idea di riduzione della concentrazione e della tensione Qui invece abbiamo come fatto sistemico Il fatto di avere un calo di popolazione E questo è assolutamente generalizzato evidentemente Da, attenzione, da numeri che sono, io credo, noti Ma che, ripeto, non riescono a entrare pienamente Nel vissuto delle, per esempio, nostre attività scientifiche O di natura consulenziale Il problema è particolarmente urgente Nelle dimensioni del sud Diverse aree del sud Prima mostravo come particolare nella regione appenninica Il problema sia evidente L'Istat segnala come da qui al 2030 Per chi si occupa di città Il 2030 è poco oltre dopo domani È una dimensione veramente dietro l'angolo Ebbene siamo di fronte ad un calo atteso Che malcontato fa quasi un milione di abitanti Qui si passa da 19 a 19,01 Dai 20 milioni, 19 malcontati del 2022 Ai poco oltre 19 milioni Nella stima centrale del 2030 Per cui siamo di fronte a un percorso Che questo si evidenzia disuguaglianze Per intensità all'interno del nostro paese Questo tema della flessione demografica Ha anche un suo corrispettivo Nell'ambito della vita economica Perché il nostro è un paese Che a differenza di altri Non è riuscito neanche a recuperare Quello è ottenuto fino al 2019 Dopo si entra nella terra ignota del Covid Qui si vede molto bene Come noi dopo il 2007-2008 Non riusciamo neanche a recuperare La ricchezza che avevamo Prima del primo shock Che ha luogo alla fine degli anni zero Segnalo come se voi vedete La retta in blu, che è la nostra Che è l'ultima in classifica È nettamente inferiore a quella della Spagna Insomma, i nostri cugini Non si può ipotizzare una differenza antropologica Non è vero che si tratta Come dire, di un'opposizione nord-sud Non sono olandesi contro italiani Che è un schema che... Anche dagli olandesi e italiani Non è un fatto proprio Lo dico, figuriamoci Per me non c'è proprio Non se ne parla proprio Ma devo dire che invece Nella conversazione pubblica Quando propongo schemi di questo tipo Mi viene sempre obiettato Ma loro sono diversi Questo tipo di argomentazioni Debolissime da un punto di vista logico-scientifico Ma che comunque è innegabile Fa comunque presa Ora, qua si vede benissimo Come il nostro è un paese Che ha perso il sentiero Della capacità di crescere Da un punto di vista economico E questo, ma non voglio entrare All'interno di discussioni Ci porterebbero lontano Ma lo faccio all'interno di una università Ha a che fare molto spesso Con il tema della produttività E la produttività del fattore lavoro Questa è bassissima rispetto alle medie europee E lo voglio sottolineare di nuovo Bassissima anche rispetto Ai nostri partner latini Qui si vede benissimo Il confronto con la Spagna E con la Francia Ora, questi sono i dati Entro cui è doveroso Iniziare a fare i conti Per valutare E capire Se esistono Delle tendenze Che possiamo E forse dobbiamo Indagare Rispetto a disparità patrimoniali Di natura emergente Allora voglio farlo A partire Da alcune considerazioni Che Prima Ho già evidenziato Ma che sono state ricordate Anche nell'intervento di Franzini Noi lavoriamo qui Sul tema delle disuguaglianze E lavoriamo Sul tema Del valore Di questa grande cassaforte Degli italiani Che sono i 35 milioni Di unità immobiliari Di proprietà Delle famiglie E delle persone giuridiche Si tratta di un patrimonio Vasto Importante Su cui le famiglie Peraltro Poggiano Molta della loro Serenità Infatti si è prima ricordato Attenzione È vero Ci possono essere Dei contesti impegnativi Ma gli italiani Hanno casa 8 famiglie su 10 Vediamo se All'interno Di questa scena Che ho provato a delineare Noi possiamo immaginare Che per esempio I valori patrimoniali Che sono Espressione e riflesso Dell'attrattività Della competitività Di una certa città Di un certo sistema territoriale Si sono mossi in modo proporzionato Rispetto al quadro economico Che ho prima delineato Oppure se invece Ci sono state delle variazioni All'interno di questo scenario italiano Per farlo Parto dalle 14 città italiane Metropolitane Che istituzionalmente A cui non è una graduatoria Le 10 14 città più forti del paese Non è così Ma sono le 14 città A cui istituzionalmente Abbiamo dato il compito Di guidare territori Più vasti E più ampi Le critiche al ruolo Delle città metropolitane Le lascio da parte Facciamo un altro prin Su questo Ma dobbiamo immaginare Che comunque Istituzionalmente Quello è il ruolo Che abbiamo immaginato Per questi luoghi Andiamo a immaginare Due diverse ipotesi Nella prima Tutti i territori Si sono mossi Più o meno Nello stesso modo E quindi i valori Si sono mossi In modo allineato Rispetto a Quelli che erano I valori di partenza L'altra ipotesi È che no Le differenze Che abbiamo visto Che abbiamo intravisto In termini di Mobilità territoriale Evidentemente Hanno condotto A una disparità Nei percorsi di crescita E su queste disparità Si sono evidentemente Formate nuove diseguaglianze Da un punto di vista Patrimoniale Se prendo i dati Che sono Anche qui Disponibili a tutti Sono oggetto di Libere elaborazione Si terebbe Open data Che sono quelle Dell'Agenzia delle Entrate Con il suo Osservatorio del mercato immobiliare Più tutte le altre fonti Che ormai sono patrimonio Di una Vasta Schiera di operatori Perché I grandi operatori Che ne so Dei grandi portali Dell'immobiliare Sono dati Accessibili E sono dati Trattabili Ecco Sulla base di questi Data set Ripeto Ampiamente accessibili È possibile Individuare Le tendenze Che hanno caratterizzato Queste 14 città Si vedono Due cose Uno Che in media Il nostro paese Ha perso valore La cassaforte Gli italiani Ha perso valore E qui sto lavorando a valori nominali Che sono stati ulteriormente erosi Dall'inflazione degli ultimi anni Quindi in questo caso Dovremo In termini reali Considerare che la discesa È andata ancora più giù Notiamo come all'interno Del quattro di città Sono delle tendenze Che sono profondamente diverse Profondamente diverse Proviamo a considerarle In questo grafico Che ho qui Alle mie spalle Abbiamo una sola città Una Che cresce Potentemente Più 40% In un decennio Che è Milano Poi abbiamo Un lotto di città Che tengono La linea E poi abbiamo Un insieme di città Che invece Vanno Decisamente Sotto E quindi perdono In modo importante Valore Faccio presente che All'interno di queste città Non è vero Che ci sono solo Le città del sud Non è vero Ci sono anche città Per esempio Genova Che è Probabilmente Uno dei casi Che ci indicano Le nuove periferie Emergenti Con una Perdita di valore Di 40 punti su 100 Stiamo parlando Di una delle città Che ha fatto Il miracolo italiano Negli anni 50 e 60 Stiamo parlando Di una città Che è stata Guida e leader Dei processi Di creazione Del benessere Che nel dopoguerra Hanno caratterizzato E contraddistinto Il nostro paese Molte altre città Qui vanno Nettamente sotto L'unica città Ripeto Che tiene La linea È Quella di Milano Che continua In questo percorso Che invece Molti italiani Pensavano essere Quasi naturale Non invece L'esito Di precisi Processi demografici Ed economici Abbiamo voluto Poi Prendere i valori Immobiliari E metterli All'interno Di pacchetti Di indicatori Che tenessero In considerazione La demografia Lo sviluppo Economico E le infrastrutture A disposizione Di ogni città Ne è venuto fuori Un ritratto Che condivido Con voi Che è molto interessante E che è l'esito Di una cosiddetta Cluster analysis Vedete Di là Tutti gli indicatori Che sono stati utilizzati E vedete Come esiste Una sola città In un cluster Che contiene Un solo elemento Che è Milano Che ha tutti gli indicatori Demografici Economici E infrastrutturali Tutti positivi Molto oltre la media Ed è L'insieme Il cluster Che voi vedete Alla vostra destra Voi vedete Un insieme Di città Che sono tutte Con indicatori Sotto la media E sono le città Del cluster Che ha difficoltà Lì troviamo Sia Molte città Del sud Ma troviamo anche Le nuove periferie Del nord Venezia e Genova Come se la A4 Si fosse Rimpicciolita Dal nord Si è ristretto Intorno Alla città Di Milano E a pochi altri Poli In mezzo E del cluster Numero uno Un insieme Di città Che evidentemente Non riescono Ad avere La stessa performance Milanese Ma presentano Invece Una serie di indicatori Sostanzialmente Positivi E correttamente Indirizzati E qui troviamo Torino Bologna Firenze E Roma Allora La cosa interessante È che Lo spazio Conta E voglio Sottolineare Tutte queste città Del cluster Uno E tre Stanno Sulla linea Dell'alta velocità Ma li prendete Proprio Una Due Tre Quattro Cinque Partite da Torino Fate Milano Bologna Firenze E Roma Mancante All'appello Ci sono Napoli Ma Evidentemente Poi le complicazioni Sono tali Per cui non basta Solo l'infrastruttura Evidentemente C'è necessità Anche d'altro Però lo voglio Sottolineare Perché di nuovo Lo spazio Conta Nella costruzione Di un percorso Che evidentemente Ha disegnato Nuove diseguaglianze Sotto il profilo Patrimoniale E sotto il profilo Di quello che è Il grande Deposito di valore Delle famiglie italiane Questo percorso Di concentrazione Che poi dopo Ha anche delle rappresentazioni Spaziali Chiare Questo è Garibaldi Repubblica Che se volete Rappresenta fisicamente Alla metà degli anni 10 Una rappresentazione Di città Che si lega A quelle che sono Le dinamiche Di un capitalismo Dell'economia Della conoscenza Quello che volete Ma insomma Di nuovo Lo spazio urbano Conta Attenzione Che questo processo Di concentrazione Della ricchezza All'interno Di un numero Limitato Di città Quando non solo Di una città È un fenomeno Che non riguarda Solo noi Riguarda invece Tutte le città europee In particolare Le capitali In uno studio Che ho sempre trovato Di grandissimo interesse Rosessen Wolf Discutono proprio La frazione Di prodotto Interno lordo Che è generata All'interno Della città capitale Dagli anni 80 Questa frazione Aumenta costantemente L'unica eccezione Nel nostro caso È che non è La città capitale Ma è Milano Per essere Roma È invece Un'altra città Ora Abbiamo qui Chiara Una evidente Costruzione Di nuove diseguaglianze C'è chi È beneficiario Di importanti Percorsi Di valorizzazione Patrimonale C'è chi invece Vede il proprio Patrimonio Decisamente Deprezzato Rispetto Al passato Un secondo tema Che voglio discutere Con voi È invece legato A un'altra sfida Questa Che abbiamo appena Discusso È la sfida Se volete Della Nuova economia Della conoscenza Delle nuove reti urbane Capaci di Generare Sviluppo E ricchezza economica Qua abbiamo Un'altra sfida Che è la capacità Del built environment Di essere pienamente Allineato Rispetto A obiettivi Di sostenibilità Decarbonizzazione Circolarità Che ci siamo Collettivamente dati Ora Sappiamo tutti Che il built environment È grandemente Responsabile Per le emissioni Di gas serra Quindi abbiamo Le varie misure Per cui abbiamo Che il 40% Delle nostre Emissioni Passa di là E quindi Non è un caso Che la Nostra Unione europea Abbia deciso Attraverso una serie Di importanti direttive Di lavorare Sull'efficienza Energetica Del patrimonio Attraverso una serie Di direttive Che iniziano A discriminare Tra immobili Di natura Pienamente conforme Agli obiettivi Di decarbonizzazione E immobili Che invece Per diverse ragioni Si sono attardati E hanno E presentano Consumi energetici In particolare Di combustibili Fossili Che sono considerati Inaccettabili Sotto il profilo Della Agenda Sostenibile Del nostro Paese E del nostro Continente Qui abbiamo In estrema sintesi Questi obiettivi Per cui abbiamo Gli obiettivi Di Decarbonizzazione Piena Per il 2050 E obiettivi Piuttosto robusti Già per il 2030 Come queste direttive Potranno essere Ricepite Allora ci sono stati Anche degli scenari Particolarmente robusti Non solo La necessità Di produrre Abitazioni Che stiano In classe Da A Da A Fino a B Le varie Classi A Ma soprattutto Il retrofit Di quel vasto patrimonio Di 35 milioni Di unità Che dovrebbero essere Trasformate Come siamo messi noi Insomma Alla fine Se guardiamo Il patrimonio Scopriamo Che il patrimonio Degli italiani Non è affatto Allineato A questa agenda Non lo è Per nulla Le tre classi Su cui L'Unione Europea Ha anche Ipotizzato L'impossibilità Di affitto O vendita Le classi E F E G Rappresentano Di gran lunga La larga maggioranza Del patrimonio Se avete Voglia Vi cercate Ma la dichiarazione Rabbiosa Delle organizzazioni Della proprietà Quando è stata Ipotizzata La non alienabilità Di immobili Nelle classi Dell'ultima Terzina La E La F La G È evidente Perché stiamo parlando Della larga maggioranza Dei proprietari italiani Che si ritrovano Con un asset Che fatte le dovute Equivalenze Esattamente come se noi Avessimo un'unica auto Si chiama Euro Zero Non ci lasciano andare Non la possiamo vendere Se la vendiamo La vendiamo a sconto Ma no a sconto La vendiamo proprio Al Rottamaro Tutto questo Evidentemente Porta con sé Un potenziale Ulteriore A crescimento Dei diversi livelli Di eseguaglianze Tra chi ha Un'abitazione Invece Pienamente retrofitata Pienamente Coerente Con gli obiettivi Di sostenibilità E chi invece Questo patrimonio Lo ha allineato A un'agenda Che magari sarà Quella degli anni Sessanta Non quella Degli anni Del nostro secolo Su questo Sono stati fatti Diversi studi E tutti Convergono Verso Una evidenza Empirica L'evidenza Empirica È questa Senza neanche Considerare Quali sono Le misure Che verranno Prese Dall'Unione Europea E poi Dall'Unione Stati Membri Il mercato Ha già Organizzato Per diversi Livelli Di valore Il mercato In funzione Dei A diversi Livelli Di efficienza Energetica Finché Lo dicevano Dei ricercatori Universitari Finché C'è anche Il sottoscritto Oltre a Una rata Di insulti Che ricorderò Per la vita Perché quando L'ho detto Per la prima Volta Ho visto Davvero Davvero Una rabbia Incontenibile Ma offese Proprio A A go go Proprio Quando l'ha detto Però banca d'Italia Devo dire che Nessuno A quel punto Ha Organizzato Sit-in Nessuno ha Proprio Coperto di insulti Comunque stiamo parlando Di una gloria patria E comunque Mi sembra Più che mai Civilmente Ed è lo studio Che voi trovate Alla fine Di questa tabella In cui si vede benissimo Come in particolare Il salto Dai valori Delle classi Raiette Ai beni Di maggiore efficienza Porta con sé Un terzo del valore Di nuovo qui Iniziamo a vedere Come le famiglie Proprietari degli immobili Normalmente acquisiti Nel boom economico Non hanno Lo stesso valore In prospettiva Delle famiglie Che hanno O comprato Più recentemente Beni mobili O hanno avuto Le risorse Per trasformare Questo tipo di beni Un'ulteriore ipotesi Per complicare Ulteriormente Il quadro O meglio Per chiarirlo È legato È legato Al fatto Che l'impatto Della Agenda Mentre nel caso Di mercati In cui io posso Decidere Che cosa comprare Che cosa affittare L'impatto È robusto Importante E qui si vede Un'ulteriore diseguaglianza Perché l'impatto Della minore Efficienza energetica È molto superiore Nelle città Medie Che nelle grandi città Nelle grandi città È possibile Immaginare Che va bene Ok Ho un immobile Di minor valore Ma non è così Drammatico Mentre se sono In una città Di medie dimensioni In cui il mercato Langue un po' E non è così vitale Così effervescente Come nelle grandi metropoli Beh io a quel punto Veramente pago d'azio E ho costruito Ulteriori diseguaglianze Patrimoniali Ora Non devo ricordare A voi Gilles Jaune Agricoltori Che manifestano A Berlino Agricoltori Che inizieranno A manifestare Anche qua Perché la Unjust transition Non è una questione Che le persone Si regolano da sole Di solito Diventa un fatto collettivo E di solito Diventa anche Un tema Ricco Di conflitto sociale Per cui Su questo Ci giochiamo Una Io credo Una partita Importante Proprio perché Siamo di fronte A una Riserva di ricchezza Assolutamente centrale Chiudo Con alcune considerazioni Sempre perché Il tema Dello spazio Conta E su questo Vorrei davvero Portare alla vostra Riflessione Alcuni temi Che hanno a che fare Con la trasformazione Di questo stesso spazio Per immaginare Una diversa Generazione Del valore Quando parliamo Di diseguaglianze Quando parliamo Di povertà Abbiamo sempre In mente Un riflesso Che è di natura Redistributiva Qua Vi propongo Anche di immaginare Azioni trasformative Dello spazio Che sono capaci Di generare valore Lo fanno Proprio È misurato Tutte le esperienze Che vi Presento Hanno Una evidente Capacità Generativa Di valore Parto dalla prima Considerazione Se qualcosa Si evince Dai dati Che abbiamo Evidenziato Se qualcosa Si evince Dalle esperienze Europee È che Se io costruisco Nei territori Europei Reti di città Pienamente E efficientemente Integrate Posso tenere Una struttura Territoriale Che non è Che si concentra Unicamente In un solo punto Ma resta Distribuita Ed efficiente La ranch Tadolandese Non è Connegata Solo da Una rete Di treni Che mi Mi viene Il mal di testa Solo considerare Da un punto Di vista La complessità Ma anche Autostrade Ciclovie Di tutto E di più Ecco Su questo Si organizza Anche Una Evidente Attenuazione Dei profili Di disparità Per esempio Nella Valorizzazione Del patrimonio Perché Non è vero Che Rotterdam E Amsterdam È 1 a 10 Considerate Che oggi Iniziamo a vedere Tra la provincia Italiana E Milano Quei rapporti Moltiplicatori Per cui Puntare Su una Diversa Integrazione Funzionale In un paese Che ripeto Non ha considerato Per esempio Le reti Del trasporto Ferroviario Regionale Mai Nella propria Agenda Questo potrebbe Diventare Un tema Su cui Costruire Una Nuova Dimensione Di Riequilibrio Di valori Altrimenti Profondamente Divergenti Secondo punto Lo spazio pubblico Qui Non c'è Una sola Evidenza Empirica Che dica Che Se io Non costruisco Efficienti Modi Del trasporto Pubblico Se io Costruisco Non zone A ZTL Che ormai Sembra essere Solo l'area Dei ricchi Ma diciamo Zone Che permettono La vita Nello spazio E permettono Una diversa Mobilità Non ho Creazione Di valore Ho una Sede di Evidenza Empirica In tutte le Città Medie Quando realizzo Una Tranvia Tutti Ma una Tranvia Non una Metropolitana Una Metropolitana Più 30% Ma Quando Anche Realizzo Una Tranvia Sede Fissa Esclusiva Per cui Una Efficiente Mobilità Pubblica Ho creazione Di valore Nello spazio Do la possibilità Alle persone Di muoversi Nello spazio Senza Essere proprietario Di un'auto Quando do la possibilità Di muoversi Con la bicicletta Quando do Concretamente La possibilità Di muoversi Nello spazio A piedi Ho creazione Di valore Ce lo dicono Le esperienze Internazionali Evidentemente Non siamo Riusciti A veicolare Questo tema Prima Michelangelo Russo Diceva che Il tema Della mobilità Già nel 2014 Ma evidentemente Non siamo riusciti A spiegare Questa connessione Tra generazione Del valore E forme Della mobilità Nello spazio Per cui le persone Pensano ancora Che sia Semplicemente Una scelta ideologica Oppure Una rappresentazione Di una elite Che vuole imporsi Sul popolo Se vogliamo Veramente utilizzare Delle categorie Davvero Così Poco scientifiche Ma credo Aderenti A una conversazione Pubblica Abbiamo un tema Di Re Infrastrutturazione Ambientale Di nuovo Ogni volta che produco Una Trasformazione Dello spazio fisico In termini ambientali So di Anticipare Percorsi di generazione Del valore Su questo In prospettiva Faccio presente Che Soprattutto Con l'aumento Delle temperature Questo tipo Di infrastrutture Inizierà a essere decisivo Per la Valorizzazione Dei patrimoni In particolare Penso a Molte città del sud In cui Penso alla Sicilia In alcune città Della Sicilia In cui N'estate Il tema Della infrastrutturazione Ambientale Non sarà un optional Ma diventerà Un elemento essenziale Della qualità Della vita Altra classe Di infrastrutture Sono quelle Del capitale Umano Del capitale Sociale Su questo Devo dire Che esiste Una lunga riflessione Che mi unisce A alcuni di voi Lavorare Per esempio Sulle infrastrutture Sociali Di prossimità Capaci di Generare Sia sviluppo Economico Ma anche capitale sociale Questa che vedete È base a un saldo A Milano In cui noi abbiamo La combinazione Di percorsi Di autoorganizzazione Collettiva E di uno sviluppo Economico Più tradizionalmente Concepito Di queste esperienze Nel nostro paese Ne abbiamo Numerosissime Sono sempre state lette Forse in modo Concettualmente Sempre legato A un modello Antagonista Io francamente Ritengo Che invece Siano infrastrutture Essenziali In un mondo In cui La dimensione Del capitale sociale Le istituzioni Tradizionali Non sono più Là a produrlo Non siamo più Così credenti Non andiamo In parrocchia Non andiamo Nei partiti Politici Il sindacato Non mi sembra Più in grado Di innervare Nuove relazioni Dobbiamo immaginare Nuove infrastrutture Di prossimità Faccio presente Che di nuovo Il tema Non è semplicemente Redistributivo No Rodriguez Polsk Recentemente Ha fatto uscire Un articolo Indica con chiarezza Come laddove Abbiamo più capitale sociale Abbiamo più crescita E più sviluppo Le imprese Lavorano meglio Le imprese Sono più in grado Di produrre valore Ecco Su questo Devo dire Che alcune regioni Hanno già iniziato A lavorare Penso per esempio Alla regione Mila Romagna In cui Il tema Delle infrastrutture Di prossimità Le infrastrutture Che producono Capitale sociale Non sono più Semplicemente Esito di processi Autoorganizzati Ma iniziano a essere Un pezzo Dell'agenda collettiva Con questo Termino Pensando che Di nuovo Lo spazio conti Questo tema Delle diseguaglianze Questo tema Della mappatura Delle diseguaglianze Io credo Ha a che fare Con lo spazio Sia in termini Di lettura Che in termini Di progettazione Credo che con grande Fierezza E con grande Consapevolezza Architetti Urbanisti Design Devano porsi Il problema Di gestire Il tema Delle diseguaglianze A partire Da ciò Che è lo spazio Da come si è Riconfigurato lo spazio E da come possiamo Intervenire Nello spazio Non è cercare Non è cercare In un altro Da sé Nelle scelte Sociali Nell'economia Le fonti Per un percorso Di interpretazione Di trasformazione È invece Ricondurre Allo specifico Della città Dei suoi spazi Delle sue Possibili Formule di intervento Un modo Originale Per pensare La gestione Delle Diseguaglianze Un'ultima battuta Due studiosi E qui riprendo Alcune considerazioni State fatte nella relazione Che mi ha immediatamente Preceduto Dicono Guardate che nei paesi In cui le diseguaglianze Sono relativamente Più contenute Maggiore è la felicità Allora non voglio Utilizzare categorie Che ci sembrano Sfuggenti Oniriche Ma in un paese Che sembra Attanagliato Da sentimenti Di rabbia Di frustrazione Immaginare un percorso Che comunque Costruisca Attraverso interventi Che ripeto Hanno natura spaziale Percorsi che tendono Invece A ridurre Queste stesse diseguaglianze Magari ci porta Anche a essere Un po' più felici Grazie 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 a tutti.